Benvenuti da Scoop Esclusivo. Se sei appassionato di gossip e notizie, ti invito a iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perderti neanche un video. Ogni like, commento e condivisione è un sostegno prezioso per me e per il lavoro che c'è dietro ogni singolo video. La tua partecipazione attiva è ciò che alimenta la crescita del canale e mi motiva a creare contenuti sempre migliori. Diletta Leotta, la celebre conduttrice di Dazon, ha condiviso con entusiasmo il racconto del suo primo incontro con Loris Karius, il padre della sua prossima bambina. In occasione delle puntate del suo nuovo podcast intitolato «Mamma dilettante», Diletta si sta immergendo nel mondo della maternità e desidera essere pronta per il nuovo capitolo della sua vita. L'arrivo della piccola è previsto per la fine di luglio o l'inizio di agosto, e Loris non vede l'ora di abbracciare la sua bambina. Diletta e Loris si sono conosciuti lo scorso ottobre, e la futura mamma ha raccontato con gioia il momento in cui ha incontrato l'amore della sua vita. In questa storia, c'è un dettaglio particolare legato a una delle figlie di Silvio Berlusconi. Diletta Leotta ha rivelato di essere stata a Parigi per assistere alle sfilate della Paris Fashion Week quando ha avuto il primo incontro con Loris Karius. Durante una serata, Diletta e le sue amiche hanno deciso di cenare in un rinomato ristorante parigino. All'improvviso, Loris è entrato nel locale e ha catturato l'attenzione di Diletta. La conduttrice di Dason ha confidato che ha immediatamente detto alle sue amiche che quell'uomo era l'amore della sua vita. Nonostante la difficoltà di comunicare in inglese, Diletta non aveva intenzione di avvicinarsi a lui. Tuttavia, una delle sue amiche, Barbara Berlusconi, non si è arresa. Essendo fluente in inglese, Barbara si è presentata a Loris e lo ha invitato a unirsi al loro tavolo, con l'intenzione di presentargli Diletta Leotta. Da quel momento, i due non si sono più separati. Impagabili amiche come Barbara, hanno commentato entusiasti i fan, che non vedono l'ora di accogliere il nuovo arrivato nel mondo di Diletta. Quindi ti invito a lasciare un like e un commento sotto questo video per farmi sapere cosa ne pensi e per contribuire al successo del canale. Grazie di cuore per il tuo supporto e per essere parte di questa meravigliosa community. Grazie. 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 Grazie.